Tomas Pedrabissi, nuovo arrivo in casa Borgosesia, presentati ai tifosi. Buongiorno a tutti, sono Tomas Pedrabissi, attaccante esterno, ho iniziato a giocare nella Bregnanese, nella squadra del paese, per poi passare al Como due anni e poi fare tutto il settore giovanile dell'Inter, poi andare a Cesena, dopodiché un anno in Lega Pro e questo è il terzo anno di Serie D. Ecco, Borgosesia come ti stai trovando in questi primi giorni di lavoro? No, ho trovato uno staff molto disponibile, dei compagni simpatici, si lavora bene ed è una cosa molto importante. Ecco, le aspettative di questa stagione? Ma cerchiamo sicuramente di arrivare subito il prima possibile alla salvezza, poi quello che verrà sarà tutto il guadagnato.